Buongiorno da Aido, ieri come vi dicevo il mercato era abbastanza povero di notizie quindi una puntata così in cui abbiamo dato un po' di aggiornamenti su cose che seguiamo da un po' e va bene, oggi invece ci sono delle cose frizzantine perché ieri c'è stato l'eventone di Samsung che ha presentato le sue nuove cose e soprattutto le sue novità software su Galaxy AI questa mega implementazione dell'AI che ha la base a Gemini di Google e è interessante secondo me da un punto di vista proprio di mercato guardare cosa fa Samsung e cosa propone Samsung perché è un po' il contrapeso ad Apple nel mondo Android cioè senza neanche troppo nascondere lo Samsung presenta dei prodotti che sono di fatto uno a uno alternative alle offerte di Apple e anche dal lato strategico è interessante guardare come procede la partnership tra Samsung e Google abbiamo detto Gemini sul fronte AI ma anche lato produzione di hardware perché i chip Tensor, i Tensor Core di Google sono in realtà prodotti da Samsung almeno per ora in realtà vedremo che le cose stanno per cambiare ma comunque sono prodotte da Samsung che ha una fabbrica di chip si produce i suoi chip Exynos e proprio la fonderia di Samsung è in contrapposizione con l'altra grande fonderia mondiale che è TSMC appunto a Taiwan Samsung sapete che è sudcoreana facendo anche la gara sui nanometri per produrre i chip sempre più piccoli Samsung aveva prodotto i Galaxy, gli smartphone della scorsa generazione utilizzando i design di Snapdragon, di Qualcomm invece quest'anno utilizza gli Exynos che sono i suoi design tutti sono basati sui prodotti di ARM, Cortex insomma sapete che ARM produce dei blueprint dei processori poi dopo ognuno simplemente i suoi design Samsung se li crea in fabbrica altri si rivolgono a TSMC insomma dal punto di vista di uno che è interessato a vedere un po' l'andamento del mercato globale informatico secondo me sono cose interessanti quindi le vediamo una piccola notte prima di iniziare sappiate comunque che anche Samsung sta affrontando dei problemi con i sindacati interni perché nelle sue fonderie, nelle sue fabbriche un sindacato che si chiama, ve lo leggo, National Samsung Electronics Labor Union quindi NSEU ha indetto uno sciopero di diversi giorni sta anche minacciando di bloccare le linee di produzione per ottenere migliori condizioni di lavoro e un aumento della paga base Samsung per adesso ha detto ciccia quindi ha negato le richieste e ha anzi intimato ai lavoratori di continuare a lavorare e ha tranquillizzato i suoi clienti che non si fermeranno le linee di produzione però comunque stiamo parlando di un mondo che sta facendo i conti anche con una pressione da parte dei lavoratori per ottenere condizioni migliori soprattutto in linea con i grandi aumenti del revenue, dei fatturati che queste grandi compagnie stanno registrando soprattutto in periodi in cui l'AI è regina del marketing e delle vendite va bene, questo quindi vi do il tuo conto anche di questo e ora vediamo che cosa ha presentato Samsung proprio ieri all'evento Unpacked Allora partiamo da questo articolo di Ars Technica Samsung come tutte le altre tech company su questo pianeta ha utilizzato il suo evento Unpacked per fornire una overview della sua offerta AI chiamata appunto Galaxy AI c'erano però anche degli hardware, c'erano i folding phones o i foldable insomma i telefoni pieghevoli ma naturalmente tutto era concentrato e infatti come dice il primo pitch dell'evento Life opens up with Galaxy AI quindi tutto intorno all'AI dice Samsung la prossima frontiera del mobile AI eccola qui con una cross device intelligence quindi sono tanti paroloni di marketing ma per utilizzare un tono anche più familiare con gli utenti Samsung dice che l'AI sarà personalizzata per gli utenti e anche buona per l'umanità insomma qualunque cosa questo voglia dire ma naturalmente per sperimentare questa AI buona per l'umanità bisogna utilizzare gli ultimi device di Samsung abbiamo visto quindi i foldable ma ci sono anche i Galaxy Ring quindi gli anelli con dei sensori sulla pelle e poi naturalmente gli smartwatch partendo dagli smartwatch hanno presentato Galaxy Watch 7 e Watch Ultra che sono molto molto simili ai modelli a cui si ispirano rispettivamente il Galaxy Watch 6 praticamente il 7 esteticamente è la stessa cosa e l'Apple Watch Ultra di cui Samsung non fa nulla per nascondere la ispirazione il modello Ultra ha una resistenza all'acqua di 10 atmosfere adesso vi leggo queste cose anche se non mi interessano tantissimo giusto per completezza quindi resistenza all'acqua a 10 atmosfere un rating IP68 una scocca in titanio e un po' di colori familiari come l'arancione perché siccome è un modello per chi va all'aperto insomma all'aperto arancione il marketing ha stabilito questa relazione poi ci sono delle modalità di risparmio energetico che ti possono portare a 100 ore di batteria o fino a 48 ore di tracking di esercizi continuo poi c'è una sirena di emergenza che può lanciare un suono da 85 decibel dall'orologio che dice anche l'articolo sarà divertente per qualcuno che lo scopre accidentalmente naturalmente come dicevo il Galaxy Watch 7 è molto simile al suo predecessore arriva come l'Ultra con Wear OS 5 quindi l'Android Wear insomma la versione 5 che mi sembra che siano i primi smartwatch tra l'altro ad avere questa nuova versione di Android Wear e la One UI 6 che è la personalizzazione estetica dell'interfaccia proprio fatta da Samsung e hanno gli Exynos da W1000 W1000 insomma che sono fatti con un processo produttivo a 3 nanometri e come dicevo gli Exynos sono proprio design di Samsung prodotti nelle proprie fonderie tra l'altro sono design molto molto simili a quelli che Samsung produce poi per Google come Tensor praticamente Tensor e Exynos dovrebbero essere quasi la stessa cosa con poche differenze insomma poi ci sono 2 GB di memoria RAM 32 GB di storage entrambi questi smartwatch hanno dei sensori per il cuore e il corpo nuovi colori che misurano più cose sapete che le cose si misurano attraverso dei LED luminosi una di queste cose è Advanced Glication and Products che Samsung dice può aiutare la sua AI a suggerire cambiamenti nella dieta e nel lifestyle anche se Samsung ci tiene a specificare che non è una misurazione del glucosio nel sangue e comunque la più grande cosa principale su tutti questi orologi è la rilevazione delle apnee notturne le apnee nel sonno che arrivano per la prima volta su uno smartwatch moderno e hanno tenuto il via libera dalla FDA se vi interessa insomma avere un pochino più di sicurezza il Galaxy Ring lo vediamo meglio dopo poi hanno presentato lo Z Fold e lo Z Flip 6 rispettivamente 1900 dollari e 1100 dollari e hanno però questa volta lo Snapdragon 8 di generazione 3 quindi vedete che c'è un po' di confusione tra il design dei processori insomma Samsung sceglie un design o l'altro in base a qualche criterio suo il pannello pieghevole ora dovrebbe essere più resistente più forte e ha anche una certificazione IP48 che significa che ha più resistenza alla polvere l'anno scorso era X quindi buona fortuna dice l'articolo quest'anno invece è 4 che significa che protegge dalle particelle più grandi di un millimetro che comunque è tanto non protegge dalla polvere dalle microparticelle ma da quelle più grandi di un millimetro quindi grandi quindi per tutto il resto per la polvere che si può infilare nello schermo anche qui tanti saluti e concentriamoci invece su Galaxy AI c'erano naturalmente anche altri prodotti nella line-up presentata da Samsung ci sono i Galaxy Buds 3 e Buds Pro che tra l'altro sono estremamente simili anche in questo caso all'offerta di Apple ai prodotti di Apple ma chi se ne frega ma quello che Samsung voleva davvero picciare in questo evento era Galaxy AI e il fatto che interconnetta assieme tutti questi device della sua offerta infatti gli schermi di Fold e Flip sono ideali per tracciare dei cerchi intorno alle cose sapete che una delle feature di Galaxy AI se non lo sapete ve lo dico io è quella che permette di tracciare dei cerchi intorno a una cosa intorno a una cosa dello schermo e quindi poi passarla all'AI che fa una ricerca questa è una roba di Gemini quindi immagino che ci sia anche sul pixel non lo so però comunque poi l'AI ricercherà e dispiegherà che cos'è quell'immagine poi le fotocamere hanno la funzionalità di auto zoom le note possono naturalmente essere sintetizzate ci sono le traduzioni in particolari che sono dappertutto quindi sono state aumentate le traduzioni le capacità di traduzione e anche quindi di trascrizione e traduzione in temporeale che sono particolarmente utili per chi magari lavora in contesti multilingua poi gli watch quindi gli orologi e gli anelli sono naturalmente health tracker suggeriscono modi per migliorare la propria vita le proprie condizioni le proprie attività come lo fanno con un modello che è stato addestrato su dati medici questo dice Samsung il problema è che non dice da dove sono arrivati questi dati medici quindi immagino che dovremmo un po' fidarci che non sono arrivati dalle misurazioni dei watch delle generazioni precedenti quindi da tutti quelli che hanno indossato i watch fino ad oggi ma facciamo finta insomma di non vedere questa correlazione e poi sappiate che Rick Osterlo che è Google Device and Service Chief quindi un pezzone importante di Google è salito sul palco insomma per sottolineare ancora una volta di più la partnership rafforzata proprio tra Samsung e Google e comunque Samsung sembra essere una delle compagnie che rivela meno rispetto a dove prende i dati con cui ha destra i suoi modelli di AI c'è una pagina dedicata a Galaxy AI sui siti di Samsung però ti dice delle cose abbastanza vaghe e soprattutto brevi sulla distinzione tra i calcoli on device quindi i small language model che ci sono sul device e invece il processing che avviene in cloud e in una di queste si dice che la maggior parte delle feature richiederanno una connessione alla network per utilizzare il cloud in qualche maniera quindi qua vedete un po' la differenza tra l'approccio di Apple che ha cercato di spiegare tutto quanto di tranquillizzare i suoi utenti sul fatto che i dati sono al sicuro che si va in cloud solamente quando l'utente lo permette per cose molto specifiche e in generale cercando di spiegare la differenza tra il processing on device e quello in cloud e quando avviene Samsung invece è molto più vaga e molto più generica è un approccio insomma molto diverso che va sottolineato si conclude questo articolo di Ars Tecnica con una frase presa dalla FAQ dalla FAQ di Galaxy AI c'è una domanda che è posso disabilitare le feature di AI? ecco la risposta di Samsung è che l'utente può scegliere di disabilitare l'AI o tenere soltanto l'AI on device e che c'è un master switch per il processing cloud based dell'AI dentro i setting quindi si può disabilitare anche o tutta l'AI o soltanto l'AI in cloud tenendo quella on device quindi insomma se volete disabilitare tutta questa parte della Galaxy AI che credo comunque siano uno dei selling point proprio dei dispositivi Samsung che costano tanto anche perché offrono questo ecosistema di AI però se volete spendere 800-1000 euro per un device e poi disabilitare questa feature sappiate che potete farlo e per guardare il ring invece vado su D-Day annunciato a gennaio il Galaxy Ring arriva finalmente in commercio ci troviamo davanti a un oggetto decisamente particolare non facile da spiegare e neppure da vendere tanto che al momento Samsung ha deciso di lanciarlo in alcuni mercati selezionati e l'Italia è esclusa quindi bam vi dico subito che il ring non lo potete acquistare in Italia almeno per adesso Galaxy Ring è un insieme di sensori qua intanto c'è un'immaginetta vedete anche che si vedono se state guardando si vede l'immaginetta con i sensori all'interno del ring tra l'altro cosa succede se poi ti si blocca nel dito lo devi tagliare quindi sperate di non prendetelo troppo piccolo questo ring perché altrimenti se vi si incastra nel dito è un problema perché dovete tagliarlo insomma Galaxy Ring è un insieme di sensori in un form factor ad anello questo naturalmente non potevamo che immaginarlo misura valori che più o meno possono essere misurati anche da un orologio con il vantaggio di avere addosso qualcosa che si tiene a dito 24 ore su 24 assolutamente discreto e invisibile va bene tutti i dati vengono raccolti elaborati da Samsung Health non ci sarà alcun abbonamento la gestione del ring e dei dati sarà totalmente gratuita Galaxy Ring offre diverse funzionalità legate più alla salute che al fitness per esempio analgine del sonno che oltre al punteggio sonno analizza anche il russare il movimento durante il sonno la latenza del sonno non so cosa voglia dire la latenza del sonno non so se ti scarichi dei dati durante il sonno e quindi forse sono i dati che scarichi dalla giornata non lo so comunque se volete monitorare la latenza del vostro sonno potete farlo poi la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria con il sensore di temperatura cutaneo abbinato al monitoraggio ciclo è possibile controllare meglio il ciclo mestruale durante la notte grazie a Galaxy AI con un modello addestrato su dati medici non meglio specificati Samsung Health usa i dati dell'anello per generare un rapporto dettagliato sullo stato di salute del soggetto incluso il nuovo punteggio energetico che viene calcolato in base alle condizioni fisiche e mentali dell'utente attraverso quattro fattori significativi sonno attività frequenza cardiaca durante il sonno e variabilità della frequenza cardiaca durante il riposo a seconda della taglia il ring ha un peso compreso tra 2,3 e 3 grammi e un'autonomia che varia da 5 a 7 giorni rivestito in titanio grado 5 l'anello è IP68 ha una resistenza all'acqua di 10 atmosfera quindi arriva in teoria fino a 100 metri il prezzo dovrebbe essere di 499 euro ma deve essere ancora confermato poi tra l'altro non c'è in Italia per adesso quindi ciccia tra l'altro vi do questo altro dettaglio se lo perdete lo potete trovare con Find My Ring che sta naturalmente su Samsung Find quindi dovete abbinarci un dispositivo Samsung e funziona anche per le gesture cioè vi rileva delle gesture che voi fate con la mano e ci sono gesture che chi utilizza gli smartwatch di Apple già conosce tipo il Double Pinch queste cose qua e possono essere utilizzate per controllare la fotocamera ma anche per spegnere delle sveglie però questa roba funziona soltanto in abbinamento agli smartphone Samsung e invece questo Galaxy Watch Ultra beh The Verge si dice che praticamente è una riproposizione quasi uno a uno di Apple Watch Ultra peraltro Samsung non nasconde proprio l'ispirazione con Apple perché lo scorso mese ha annunciato la versione entry level del Galaxy Watch che si chiama Galaxy Watch FE adesso ha il Galaxy Watch 7 che costa 300 dollari e il Galaxy Watch Ultra che costa 650 dollari ma insomma è la line up di Apple Watch più o meno pareggiata uno a uno quindi insomma questo è Apple Watch Ultra nel mondo Android ma questo non è necessariamente dice The Verge una cosa brutta anzi mancava una risposta equivalente nel mondo Android a Apple Watch Ultra certo ci sono gli smartwatch di Garmin però quelli sono molto indirizzati a chi fa sport anche ad alti livelli hanno poche feature smart se li confrontiamo con questi quindi insomma non sono esattamente un'alternativa tanto è vero che esistono per il mondo Android tanto quanto il mondo iPhone insomma Garmin è un po' fuori da questa gara e invece Samsung sta proprio riempendo un vuoto che c'era e lo fa tra l'altro con un prodotto che costa 150 dollari in meno che non è male e comunque sarebbe ingiusto bollare questo prodotto come una copia dell'alternativa di Apple Samsung ci ha messo del proprio intanto c'è questa forma del case che viene chiamata squircol che non so come tradurre in italiano un quadra quadracerchio non lo so insomma lo schermo è circolare ma come vedete la scocca è un po' quadrata quadrangolare insomma è un design abbastanza distintivo rispetto al watch ultra anche se una prima occhiata potrebbe sembrare molto più simile non c'è la ghiera fisica girevole per poter navigare nel menu senza toccare lo schermo magari quando si indossano dei guanti però Samsung ha mantenuto la ghiera digitale quindi facendo lo stesso movimento attorno al display Samsung lo rileva e poi insomma permette le stesse azioni però non è fisica è soltanto touch per quanto riguarda il Galaxy Watch 7 praticamente è esteticamente lo stesso smartwatch dell'anno scorso ma ha nuovi processori condivide in pratica tutto l'hardware e la sensoristica o quasi del watch ultra oltre a condividere il Wear OS 5 come abbiamo detto infatti entrambi hanno Exynos V1000 con 2 giga di RAM e poi hanno LTE hanno la carica rapida il GPS dopo frequenza che è molto utile per chi va fuori a fare sport e poi questo Samsung Bioactive Sensor che migliora insomma le rilevazioni della frequenza cardiaca dell'ECG e le varie metriche corporee oltre come abbiamo visto questo Advanced Glication End Product che in pratica misura l'età del corpo e ci dice di dei che questi age sono composti che si formano attraverso un processo chiamato glicazione una reazione chimica non enzimatica in cui gli zuccheri si legano a proteine lipidi o acidi nucleici gli age possono accumularsi nei tessuti e negli organi contribuendo allo sviluppo di varie malattie croniche e sono anche associate all'invecchiamento poiché possono danneggiare le proteine strutturali della pelle e di altri tessuti causando perdita di elasticità e funzionalità Samsung misurando gli age riesce a dare un'indicazione della salute metabolica e a stimare l'invecchiamento biologico complessivo ma aspetta è per questo che si chiamano age non noto adesso questa correlazione tra age e invecchiamento vabbè questo viene fatto mediante impulsi luminosi che analizzano la pelle sotto il polso e Samsung nei disclaimer avvisa che questo tipo di misura su soggetti con la pelle fotosensibile potrebbe portare a piccole eruzioni cutanee vabbè un piccolo prezzo da pagare per stabilire quanto sei vecchio dentro Watch 7 arriva anche un pizzico di Galaxy AI la stessa funzione risposte intelligenti che analizza la conversazione e fornisce una risposta basata sul contesto che c'è in Galaxy Z Flip 6 arriva anche al polso e permette di rispondere con un tocco usando una risposta generata da Gemini per questo serve una connessione cloud è uno smartphone aggiornato che faccia da appoggio anche perché lo storico dei messaggi è presente sullo smartphone lo smartwatch mostra solo una copia quindi disponibili a partire da oggi costano nella versione bluetooth 319 e 349 euro mentre nella versione LTE con eSIM si passa a 369 e 399 euro vabbè degli Z Fold 6 e Flip 6 non ce ne frega abbastanza un cazzo sapete che costano molto di più hanno poco in più rispetto a modelli dell'anno scorso ma costano molto di più a parte vabbè questi pannelli che dovrebbero essere molto più resistenti però comunque se vi si infila un granello di polvere sotto lo schermo siete finiti ultima nota interessante la One UI 6.1.1 che è naturalmente la personalizzazione di Samsung di Android 14 offre più o meno le stesse feature di AI che ci sono nel pixel compreso anche la generazione automatica degli sfondi ora però se generate uno sfondo con questi smartphone vi troverete un watermark che nelle versioni dell'anno scorso era piccolino in quella di quest'anno invece è diventato più grandino quindi quando generate un vostro sfondo non so se si riesce a vedere in questa immaginetta ma insomma in basso c'è un piccolo watermark che dice che questo sfondo è stato generato con le AI di Samsung non so bene perché lo facciano ma lo devono fare e su sfondi scuri insomma si nota abbastanza tenetene conto nelle vostre intenzioni di acquisto aspetta un attimo per concludere un po' questa cosa della produzione dei chip nel mondo insomma recupero questo articolo un pochino più vecchiotto che però ci dice che Samsung Foundry che è proprio la divisione specializzata nella fabbricazione di chip di Samsung lancerà nel 2025 la produzione a 2 nanometri nota come SF2 questo lo trovo su Tom's Hardware di qualche settimana fa questo nodo produttivo è indirizzato alla produzione di chip per pc ad alte prestazioni oltre che processori per smartphone da un punto di vista competitivo l'introduzione di SF2 permetterà a Samsung di precedere il tsmc nella produzione di chip con processo n2 quindi a 2 nanometri questo comunque interessante poi c'è il 2026 che vedrà l'introduzione di SF2P che è una versione migliorata di SF2 che offrirà transistor più veloci seppure meno densi questa evoluzione indica uno spostamento verso il miglioramento della velocità a scapito della densità che dice Tom's Hardware un compromesso comune nel settore questo giusto per farvi capire lo stato di avanzamento delle due grandi fonderie mondiali nella produzione di chip ve ne do un'altra pare che Google stia per passare a tsmc come produttore dei propri chip tensor come avevo detto attualmente è Samsung che produce i processori di Google i tensor core pare che invece da un leak che ha raccolto Android Authority i prossimi produttori quindi di chip non di quest'anno non dei pixel 9 ma dell'anno prossimo dei pixel 10 sarà tsmc l'hanno scoperto trovando intercettando la bolla di una spedizione da Taiwan all'India che pare contenga appunto nelle sue descrizioni i processori appunto nuovi tensor core con codename LGA che confermerebbero produttori di smc e tra l'altro confermerebbero anche il supporto a 16 gigabyte di ram interessante anche vedere che mentre rimane forte la partnership tecnologica software tra Google e Samsung per quanto riguarda l'AI e presumibilmente Android e altre questioni invece lato produzione di chip Google non è contentissima della produzione di Samsung e quindi parrebbe affidarsi a tsmc tsmc che peraltro comunica un notevole incremento delle revenue non ve lo sareste mai aspettati ci dice The Register che le revenue da gennaio a giugno di quest'anno 2024 sono di 38.9 miliardi di dollari che incrementano del 28% lo stesso periodo 2023 e naturalmente tutto questo è dovuto all'incremento nella richiesta di chip per l'AI comunque un incremento davvero notevole che va oltre le aspettative degli analisti di mercato facciamo una seconda news un po' veloce parliamo di OpenAI parliamo in particolare della board di OpenAI board da cui si è sfilata Microsoft che sapete dopo le vicende legate al defenestramento di Sam Altman aveva richiesto e ottenuto un posto da osservatore così aveva detto nel board di OpenAI bene adesso si è tirata indietro invece è uscita dal board e questo sviluppo parrebbe essere legato agli scrutini agli scrutinamenti non so come si tradurre scrutini insomma dalle indagini che stanno portando avanti sia i regolatori dell'Unione Europea che quelli statunitensi sugli investimenti delle big tech in generale nel mondo delle start up dell'AI e li abbiamo visti in questi ultimi mesi ci sono spesso notizie di acquisizioni di start up che hanno prodotti AI innovativi interessanti che vengono proprio facogitate da questi big tech e quindi rischiano di portare sempre più polarizzazione nel mercato questo naturalmente l'antitrust non lo vuole insomma Axios ha riportato che martedì Microsoft ha scritto una lettera a OpenAI dicendo che la propria posizione nel board non era più necessaria visti i progressi significativi fatti proprio dall'azienda e Bloomberg aveva anche riportato che forse Apple avrebbe preso un posto nell'abordo di OpenAI nella persona di Phil Schiller che guida App Store e Apple Events sempre come con ruolo di osservatore e parte di quel deal tra Apple e OpenAI parte di Apple Intelligence ma invece il Financial Times ha riportato che Apple non prenderà quella posizione ma Apple non ha ancora chiarito bene le motivazioni ora invece di questi ruoli da osservatore nel board OpenAI ha detto di voler ospitare dei meeting regolari con i propri partner come Microsoft e Apple appunto oltre ai suoi investitori decisione parte di un nuovo approccio per mantenere informati e ingaggiati i partner strategici ma Microsoft rimane un partner finanziario e tecnologico troppo strategico per OpenAI oltre naturalmente ad aver investito 10 miliardi nella compagnia dal 2023 e questa partnership ha permesso a Microsoft di ottenere in anteprima o in esclusiva delle feature di AI generativa e a OpenAI di sfruttare invece il potere computazionale di tutti i server e i data center di Microsoft con Azure e il suo cloud ora non ci sono conferme che il ritiro da parte di Microsoft e la decisione di non partecipare al board da parte di Apple siano legate alle investigazioni dei regolatori degli enti regolatori però questo è difficile che sia una coincidenza infatti sappiamo che le istituzioni sia europee che statunitense non vogliono avere questo predominio delle big tech sul mercato e vogliono avere un mercato più frammentato più fatto di competizione dove la competizione sia favorita e queste grandi aziende non vogliono e queste grandi aziende non vogliono avere troppi occhi sulle proprie operazioni Microsoft ha portato a casa una vittoria in giugno quando l'Unione Europea ha dismesso quella investigazione proprio sulla partnership tra e sui investimenti tra Microsoft e OpenAI però adesso si pensa che non voglia avere ancora ulteriori pressioni per le sue operazioni quindi si tira indietro ma comunque la partnership rimane lì vi lascio due link veloci il primo tanto è molto stupido è questa palla che potete inserire nel dock di Apple di macOS di Apple di macOS e non fa nient'altro che questo è una palla che potete prendere trascinare in giro rimbalza per lo schermo e poi ve la rimettete nel dock è una cosa che ho trovato talmente stupida da considerare geniale e quindi ve la lascio è open source la trovate su GitHub insomma per vedere anche un po' come è fatta se volete vedere un po' il codice sorgente per fare una roba di questo tipo è interessante e poi questo articolo invece che è anche un prodotto però che è l'introduzione di .envx quindi è un'evoluzione di .env dai creatori di .env quindi trovate come pacchetto su npm questo .envx che risolve o cerca di risolvere un po' dei problemi di .env in particolare permette di essere multiplatform quindi .env è specificamente per ambiente node npm insomma javascript invece .envx è cross platform quindi funziona con qualunque linguaggio poi permette di gestire in modo diciamo più sano i ambienti quindi produzione stage locale eccetera e poi all'encryption quindi vi critta il file .env per cercare di limitare quei leak di chiavi che la gente spesso committa in chiaro sui file .env poi finiscono nei repuguità pubblici e poi finiscono nei leak come abbiamo visto con rabbit r1 insomma .envx vi consiglio di darci una lettura magari in prodotto che potrebbe anche interessarvi e ho finito qui grazie per avermi seguito anche oggi questo peraltro è l'ultimo buongiornone della settimana perché domattina ho un impegno non ci sarò e peraltro come avevo già preannunciato la prossima settimana la salterò a pipari completamente perché ho vari impegni che non mi permettono di essere qui in particolare martedì c'è un evento online gratuito qui peraltro potreste registrarvi se siete interessati si chiama Talks on my machine Tom cercate sui canali di Sparfabric lo organizziamo noi e è un evento online gratuito ripeto starà su YouTube e vedrà gli interventi di vari relatori che ci parleranno proprio della supply chain security quindi secondo me è super interessante cercatelo magari iscrivetevi se vi interessa il tema poi invece da mercoledì fino a fine settimana sarò a Berlino per We Are Developers World Congress che è un evento gigantesco credo la punta massima della mia carriera di speaker è lì sul palco perché sarò uno speaker di We Are Developers parlerò di WebAssembly insomma sono abbastanza in ansia perché i giorni iniziano a scarseggiare per prepararmi anche psicologicamente a questa roba pensate che condividerò il palco con gente come John Romero condividerò non sarò esattamente insieme a loro sullo stesso palco ma sarò su un palco alla stessa cosa insomma alla fine nel curriculum avremo entrambi partecipazione come speaker a We Are Developers io e John Romero stessa voce ho condiviso un palco posso dire di aver condiviso un palco con John Romero anche con Tim Berners-Lee e Den Abram ma mi interessa di più John Romero vabbè chiudiamola qui alla prossima ciao